Pogba pensa al tiro e ci prova Sembrano avere il totale controllo della gara Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti I palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili Gol per la Juventus Ha segnato al 35esimo minuto